Per iniziare l'allenamento La mattina alle sette Alessio staccò la canoa dal barcone sul Tevere per iniziare l'allenamento. Tutto occupato ad aggiustarsi sulla barca da corsa, si accorse appena di un topo enorme che lo affiancò e sulle prime lo superò, nuotando come un siluro. Il topo avanzava maestoso nelle acque color argilla del Tevere tra le sponde boscose. Presto la prua del canoino sorpassò il topo rimestando l'acqua con un piccolo rumore di cascata. Come buffa questa vita inferiore all'umana, pensò Alessio, mentre pagagliava forte. I baffi del topo attraversarono il fiume e si diressero verso la riva opposta, dove si ammassava una famiglia rom con le masserizie e gli animali da cortile. I loro panni schioccavano al vento come una bandiera. Bandiera di che cosa, pensò Alessio, di una vita miserevole. Continuò a pagagliare verso Fiumicino e alla fine pensò che il topo, il rumore di cascata che faceva la prua della canoa e i rom appartenevano tutti meravigliosamente all'assoluto. LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOđITE Grazie a tutti